Facciamo il saluto finale ai ragazzi che sono arrivati in questa mattina, da Ariano il vino, bellissimo, si è divertito, si è divertito, inquadriamo un sacco belli, inquadriamo, 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 adesso stiamo andando via, stiamo andando via, dove vai? Guarda, guarda, si va a nascondere nell'angolino, va bene, vediamo i bambini, dove scappano? Ecco i bambini, ciao bimbi, ciao, ciao, è stato bellissimo, ciao! Ciao, che meraviglia, che meraviglia, che spettacolo, ragazzi, dai, tutti a presto alla fotocamera, tu non sei una ragazza, ok, allora, è stata un'esperienza bellissima, ciao, 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 lui va a prendere il pulmino e lo porta qua, ciao, Ciao, Giuseppe, dove stai? Eccola, l'ho beccata, guardate, per un attimo, Maria Giovanna, Giuseppe, Giuseppe, ciao, ciao, come è voi? Ciao! Ciao, Giuseppe, Giuseppe stava in Ciampinano, ciao, qui stanno andando via, ciao, stanno andando via i bambini, e cado, una giornata bruttissima a livello climatologico, meteoropatico, ma una giornata bellissima per quanto attene alle emozioni. E li salutiamo, vanno via adesso, tornano a Tariano Irpino, ricordiamo, Associazione Vita ha organizzato questa giornata con i bambini del Saharawi, del Saharawi, ci stanno andando via adesso, tornano a Tariano, poi il 9 agosto andranno a Maratea, quindi dopo un mese di sosta in Irpiglia, ci stanno a fare un po' di mare dopo la neve, dopo la neve in Irpiglia, guardate, sono spariti anche Savignano e Grecia e Panna, non c'è più niente, ormai siamo soli, va bene, una nuova panoramica, ci salutiamo da così dal Salone di Via Sorgente, ciao a tutti!